Grazie a tutti. È stata senz'altro in comune con quello che è emerso anche dalla riflessione degli altri gruppi di lavoro ed in particolare abbiamo cercato di ribadire l'attenzione su alcuni temi fondamentali che riguardano l'agire del volontariato, in particolare la gratuità del servizio del volontariato, il rispetto delle autonomie delle associazioni, i criteri di trasparenza che devono riguardare l'agire del volontariato, la democraticità delle nostre strutture, delle nostre organizzazioni e quindi ci siamo concentrati su quei valori fondamentali che rappresentano e costituiscono i principi fondamentali che determinano l'agire del volontariato di protezione civile. Avete anche parlato all'interno dei gruppi di lavoro delle proposte di quanto prospettato nella legge di riforma della protezione civile che come sai Monti nella giornata di apertura degli stati generali ha brevemente delineato? Non era tra i temi della discussione ovviamente in senso stretto di questi stati generali del volontariato. Noi abbiamo ribadito la necessità che il volontariato, che è parte di un sistema più ampio, di cui è parte di tutto il sistema di protezione civile, sia sostenuto con tutti gli strumenti e tutte le risorse adeguate e quindi che sia garantito a tutto il sistema di protezione civile di rimanere sotto la struttura super partes della Presidenza del Consiglio dei Ministri che è quello che garantisce la piena agibilità del sistema. Rispetto relativamente alle aspettative che avevi quando sei arrivata nella prima giornata, ti ha soddisfatto queste giornate di lavoro? Non ti hanno soddisfatto? Criticità e invece punti di forza? Mi hanno soddisfatto e devo dire che almeno per l'attività del nostro gruppo, ma credo sia stato così anche negli altri, c'è stata una generale sintonia. Per noi è stato molto forte, insomma, sui valori generali che caratterizzano l'agire del volontariato di protezione civile, pur nella diversità di un panorama così articolato e sempre diversificato del mondo della protezione civile che è cresciuto dalle organizzazioni nazionali, poi ci sono i gruppi comunali, le associazioni con tutte le loro diversità anche dal punto di vista della connotazione territoriale. Nonostante tutte queste diversità, mi pare che sui principi generali, sulle proposte, sull'agire comune ci sia una sintonia. Voi hai partecipato al gruppo di lavoro sulla rappresentanza, ecco, come è andata? Di cosa avete parlato? Allora, appunto, della rappresentanza credo sia andata molto bene perché siamo riusciti a sviscerare quelli che sono le problematiche del nostro tema. Credo molto bene, sono molto contento, reputo questa cosa molto positiva. Anzi, si dovrebbe farne di più. Quindi sei stato soddisfatto? Tu sei arrivato qui come tutti gli altri con delle aspettative rispetto agli stati generali, no? Le tue aspettative non sono state tradite? Assolutamente no perché credo mettere insieme il mondo di volontariato in questo modo, cioè proprio a 360 gradi, credo sia importante, credo sia importante parlarci insieme, condividere quelle che sono le esperienze, quelle che sono anche poi la nostra formazione, il nostro mondo, credo sia molto positivo. Un'ultima domanda, non era diciamo nei temi dei documenti, però mi immagino, suppongo, che un po' fra le righe o a tavola si sia parlato un po' di queste ipotesi di riforma della protezione civile che il Premier Monti nella giornata di apertura ha così illustrato e che insomma rappresenta qualche criticità almeno dal punto di vista del mondo del volontariato, già se ne parlava già a novembre, no? Ecco, se ne è parlato, avete parlato, che cosa si è detto insomma da questo, proprio da volontari? Ma c'è un po' di attenzione, c'è un po' di timori, però perlomeno io personalmente ho sentito tanti altri colleghi, aspettiamo quelle che sono poi le stessure diciamo finali, quello che effettivamente il Governo penserà di fare. Di lì poi potremo fare le nostre, diciamo, potremo portare le nostre idee. Non lo so, ancora mi sembra una fase talmente embrionale che non c'è abbastanza indietro, insomma, non credo si possa dare dei giudizi precisi. Certo, stiamo molto attenti, vediamo e valutiamo volta a volta quello che verrà fuori, tutte le novità, perché penso che ancora ce ne siano. Vedo che tu hai partecipato al gruppo di lavoro sui ruoli e le modalità operative, puoi farci una sintesi di queste giornate di lavoro? Allora, sono state giornate di lavoro molto, molto intense, perché il tema trattato, diciamo, era abbastanza importante. Il ruolo del volontario di protezione civile è una di quelle cose che dovrebbe stare alla base del nostro agire, della nostra vita quotidiana, da cittadini e anche da volontari. E parlare di ruoli oggi, quando c'è una crisi di identità in generale, un po' di tutte le componenti della vita sociale, per la protezione civile è fondamentale ed importante. I lavori sono andati molto, molto bene, c'è stata una serie di interventi, forse una 60-70 interventi, e alla fine siamo riusciti a tirare fuori un ottimo documento che fa la fotografia di quelle che sono le reali necessità della protezione del volontariato e del volontariato di protezione civile oggi in Italia, a tutti i livelli, dal livello comunale a quello regionale e a quello delle grandi organizzazioni di volontariato. Una domanda che esolo un po' dal tema dei lavori, anche se in realtà ci è abbastanza vicina. Il Premier Monti, nella giornata di apertura, ha delineato la loro ipotesi di riforma della protezione civile. Quali sono le tue considerazioni? Prima domanda. Secondo, se nel gruppo di lavoro in qualche modo ne avete parlato trasversalmente, insomma, qual è la tua valutazione? Perché come sai ci sono diverse criticità. Allora, la mia personale valutazione è quindi quella dell'ANPAS. Noi non possiamo fare un passaggio indietro nel tempo, perché oggi la protezione civile rappresenta quello che rappresenta a livello anche internazionale, perché è sotto la presidenza del Consiglio dei Ministri. Fare un passaggio sotto il Ministero degli Interni potrebbe essere una cosa molto molto pericolosa, ma non solo per il volontariato di protezione civile, ma proprio per l'intero sistema della protezione civile. Chiaramente queste sono delle scelte della politica, però sono delle scelte che coinvolgono anche noi, essendo una parte integrante del sistema nazionale di protezione civile. Nel gruppo di lavoro il 90% è concorde con questa mia posizione, quindi c'è stata una grossa manifestazione su questo tipo di pensiero. E inoltre, la cosa che noi chiediamo a gran voce, che quando si parla di protezione civile, noi vogliamo essere ascoltati in quanto volontari, in quanto oggi parte integrante del sistema. Ci è sembrato un pochino che le cose si fanno da altre parti, senza interpellare poi di fatto le persone che poi di fatto la protezione civile la fanno tutti i giorni, perché noi non dobbiamo mai dimenticare, si parla di volontari in caso di emergenza, ma il volontariato oggi è sempre più qualificato e sta lavorando sempre di più in attività di prevenzione. Anzi, addirittura noi proprio come Ampas abbiamo modificato completamente il nostro regolamento interno di protezione civile e l'abbiamo proiettato sulla prevenzione, soprattutto sulla prevenzione, chiaramente mantenendo alto il livello della formazione su quello che potrebbe essere l'intervento. Tu hai partecipato al gruppo di lavoro delle risorse, come è andata? Raccontaci un po' questa esperienza. Dunque, il nostro gruppo ha lavorato molto bene, tutti i delegati erano molto soddisfatti, abbiamo buttato giù un documento schematico con pochi punti ma efficaci, abbiamo avuto un paio di proposte molto interessanti, una proposta molto interessante è stata quella di portare un codice contributo nell'ambito dell'F24 per facilitare agli imprenditori, le aziende che hanno dei volontari come dipendenti, quindi per garantire un rimborso più veloce. Questa è stata, secondo me, una proposta molto intelligente. Abbiamo all'interno del nostro documento anche delle altre proposte per quanto riguarda tutta l'attività di fundraising e appunto una maggiore omogeneità nel settore degli acquisti e quindi per cercare di spuntare dei prezzi e delle condizioni economico-normative migliori. Ecco, volevo chiederti, rispetto alle tue aspettative quando sei arrivato agli stati generali, ti ha soddisfatto? C'è qualche critica da fare? Avresti dovuto che si parlassi di qualcosa di più? No, assolutamente no. Io sono soddisfatto. Ripeto, penso di essere stato fortunato perché il mio gruppo di lavoro ha lavorato molto bene in armonia. Non so di altri gruppi, ma confido nel fatto che ogni associazione avesse un delegato all'interno di ciascun gruppo e quindi possano essere state ascoltate le istanze di tutte quante le associazioni. Grazie. 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 Grazie.